Una signora che abitava lì vicino, quando ha sentito, sì, la mattina presto, più che altro i suoi cani abbagliavano, quindi è andata a controllare, c'era questo scatolone con questi cucciolini. Erano stati abbandonati in una scatola di cartone lungo la strada, sei cuccioli meticci di appena due mesi, a salvarli i volontari dell'EMPA che gestisce il canile comunale di Arezzo. Tre maschi e tre femmine a rigutino, per fortuna cuccioli svezzati, quindi autosufficienti, autonomi a mangiare, anzi super voraci. Condizioni, insomma, erano strapieni di pulci, non facevano altro che grattarsi, pieni di vermi, l'abbiamo tutti sistemati, hanno fatto il primo vaccino, il microchip, tre siamo riusciti a farli adottare e sono rimasti questa femminuccia, la sorella e il fratellino. È sempre difficile dire che taglia possono diventare non conoscendo i genitori, però sì, sicuramente è una taglia media. Cani, gatti, ma anche conigli. Dopo Romeo e Giulietta salvati dai volontari dell'EMPA e già adottati adesso al canile, in attesa di una famiglia che possa accoglierla, c'è Sofia. Sono arrivati anche dei conigli che fortunatamente abbiamo fatto adottare insieme, ma è arrivato un altro coniglio, una femmina bianca e nera, cerchiamo casa per lei, tra l'altro non è un coniglio nano, è un coniglio da carne, se così si può dire, che sicuramente è scappata, per fortuna, da qualche situazione.